Il pullman di Babbo Natale è arrivato ad Ascoli, il Santa Claus Bus ha fatto tappa nel salotto cittadino di Piazza del Popolo per la gioia di tanti bambini che hanno potuto così incontrare il personaggio più amato di sempre delle festività natalizie e consegnare nelle sue mani la lettera di Natale. Si tratta di un'iniziativa realizzata con il contributo del Consiglio regionale delle Marche e portata avanti dall'associazione culturale Marche Magiche, una serie di appuntamenti per tutto il territorio regionale che ha preso il via lo scorso 20 novembre e che proseguirà anche nei prossimi giorni. Particolarmente suggestivo l'allestimento all'interno dell'autobus dove sono stati sistemati alberi di Natale e presepi ed addobbato con ghirlande e luci colorate. Una iniziativa che ha riscosso notevole successo. Siamo partiti il 20 novembre e stiamo facendo tutte le piazze più importanti della regione, siamo patrocinati dal Consiglio regionale, quindi dalla regione Marche e oggi siamo nella bellissima piazza del popolo di Ascoli e stiamo aspettando e accogliendo tutti i bambini di Ascoli per vivere la magia del Natale. All'interno del bus che è allestito in maniera spettacolare c'è Babbo Natale che aspetta i bimbi per una foto e per scambiare la letterina di Natale. Torneremo il 24, il giorno della vigilia, torneremo sempre in piazza del popolo e non vediamo l'ora di riportare la magia del Natale con il nostro Santa Claus bus.